Amici della Serie D, tifosi del Roma City, un caloroso saluto da Alessandro Pao, siamo in diretta dal Riano Athletic Center dove oggi vi racconteremo la sfida tra il Roma City e l'Alma Juventus-Fano. Vale da aprire la ventitresima giornata del Girone F e del campionato di Serie D. C'è un cross fino al limite dell'era di rigore, va a terra un giocatore del Fano, ma si continua a giocare tutto regolare, buoni le dribbling. Poi il Mancino si è spento ampiamente alla sinistra della porta di Corci. Mancino prova a scappare in mezzo a tre, molto bravo Mancino, si chiude il triangolo, attenzione al sette che entra in era di rigore fino in fondo. Mancino la mette dentro, palla allontanata ma ancora viva l'azione, il tiro tentato poi nel mucchio. Si avvicina anche Meo, ma più probabile un cross in era di rigore. Tutto pronto, parte Pisano, palla morbida, ci arriva Jacoponi, palla che si alza sulla traversa. Poi va a terra Broso, si continua a giocare il capitano del Fano per Drolet, il 10 ancora, allarga il tiro tentato da Zanni, palla centrale, guadagna a metri il numero otto, supera il centrocampo. Mancino di prima, prova ad allargare dove c'è Raffini sulla destra, ancora Pisano di nuovo verso Mancino che fa rimbalzare bene, attenzione al sette, può scappare ancora Mancino fino in fondo, il tiro, palla alta, Pisano. Arriva il colpo di testa, la parata di Bizzini che dice di no. Un'incornata perfetta, se non abbiamo visto male da parte di Ricci, la parata di Bizzini. Palla giocata corta, poi lunga per la corsa tentata dal 6, palla che si infrange sull'esterno della rete. Arriva allora il duplice fischio, si va al riposo sul parziale di 0-0 tra Roma City e Alma Juventus Fano. Poche le occasioni create, quella più importante sicuramente è capitata al Roma City sugli sviluppi di un corner con l'ottima parata di Bizzini che ha salvato il parziale, che dunque fa iniziare questo secondo tempo sullo 0-0. Ancora due centrali del Fano a dialogare, gioco che si allarga sull'out di sinistra. Si libera sulla destra Allegrucci, viene servito, mette giù col petto il 7 e poi prova il tiro. Palla larga sulla destra della porta, difesa da Curci. Arriva Urbinati alle spalle di Mancino, ancora Urbinati, allarga per Seges. Di nuovo da Urbinati, parte il pallone dentro, poi il tentativo nello stretto, il passaggio, il tiro, palla alta! La chance più grande dell'incontro sul destro di Broso, palla alta sulla traversa. Palleggia Pisano, indietreggia la palla larga dove c'è Ricci. Il 5 a spazio, vediamo se parte il cross per Moreo anticipato. Sul lato opposto c'è Rea, la mette giù il 17. Rea, parte il cross, dentro il colpo di testa! Rasi! Porta avanti Roma City! Rasi fa 1 a 0, arriva il gol per il 19! Prestazione importantissima di Rasi, è arrivato anche il gol sul colpo di testa. Jacoponi supera un appello, poi mette dentro Zammarchi, Cabella, palla per Moreo. Entra in porta Bizzini, Moreo davanti al portiere, poi spara sul fondo. Si è alzata comunque la bandierina dell'assistente, si può ripartire ora col possesso, palla in favore del Fano. La tiene Rea, c'è Rasi a fianco a lui. Rea può andare da solo, può partire il cross in porta. Moreo in anticipo, palla sul fondo. È tutto regolare, si continua a giocare, Seges, il dribbling, pallone dentro, al limite del re di rigore, si gira, la palla resta lì e poi Ricci, scaraventa via. Il più lontano possibile questo pallone. Rea lo vuole andare addirittura a prendere, la palla non è uscita, è tutto regolare. Dentro, Moreo, a tu per tu con Bizzini, Moreo, fino in fondo, Moreo, il tiro, palla in rete. Il 2 a 0 del Roma City. Moreo sigilla la fine di questo incontro. È 2 a 0 Roma City, la firma di Moreo che regala i tre punti al Roma City. Partiamo da un commento sulla gara, primo tempo chiuso, nella ripresa poi anche con i cambi, la squadra è cresciuta, ha trovato i due gol della vittoria. Sì, è stata una partita dura perché sapevamo che il Fano è una squadra tosta, tonica, gioca veramente con tutti e undici elementi. Quindi dovevamo stare accorti perché le due punte centrali erano molto rapide e veloci, quindi non potevamo dare gli spazi. Quindi così abbiamo interpretato la partita in maniera positiva e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti. Momento molto, molto positivo per la tua squadra. Secondo i primi calcoli, per la prima volta da inizio anno Roma City è fuori dalla zona play-out. Ti chiedo come vi vede questa situazione e quante ha carica vita anche per il proseguo del campionato. Le vittorie portano sempre armonia, però come diciamo sempre dentro gli spogliatoi dobbiamo lottare fin quando non ci sarà la matematica salvezza. Perché ogni partita, come abbiamo detto, è una finale, quindi ancora non stiamo completamente fuori dalla zona salvezza. Però se continuiamo così, a lavorare con questa umiltà, con questo apprendimento, secondo me potremo uscirne presto. Però ogni partita non si fanno calcoli, ogni partita ha storia a sé.